Dopo l'emissione dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, l'arma dei carabinieri unitamente alle altre forze di polizia, secondo le indicazioni del Prefetto di Catania, ha subito intensificato i servizi nella città di Bronte per verificare il rispetto delle disposizioni contenute. Sono stati poi predisposti dei posti di controllo delle principali arterie stradali di ingresso e inizio. L'invito che rivolgiamo a tutti è quello di non spostarsi se non per motivi di estrematicità e utenza lavorativi o di salute.